Mangi oggi e paghi a Natale, ma sarà vero? Oh vabbè ma se è vero entriamo e mangiamo, tanto non c'hiamo manco un euro Anche perché a Natale è qua chi ci rimette più diete Senta un po' me scusi, ma è vero quello che dice il cartello qua fuori? Certo, mangiate oggi e poi pagate direttamente a Natale Però l'importante è che a Natale non deve mancare un euro D'accordo, allora noi ci accomodiamo eh, grazie Ma per cominciare un bel piatto di gnocchi al ragù di totano Spaghetti ai lupini e pacchino Per me dei bei rigatoni alla crema di peperoni, così assaggiamo il sugo Fettuccine al datterino rosso e giallo Brasciole di maiale, un bel sovraccoscio di pollo Trippa alla romana, una bella strittura di pesce Mi raccomando sia agli anelli che ai gamberi E una bella bisteccona danese Complimenti, tutto buono eh È stato veramente un piacere eh Noi abbiamo mangiato oggi, però... Ma che da Natale, certo Natale, porta un po' il conto a sti signori So 424 euro Carta o contanti Ma che da Natale, porta un po' il conto a sti signori